nazionale partiti e vantaggio Younger Iars davanti a Premois Anzedonia, Oksana d'Arcadia, pure Gioi, Rebaudengo e Stundaio dopo 300 metri di corsa passa Anzedonia davanti a Younger G. Iars, pure Gioi, Premois, Oksana d'Arcadia, Rebaudengo e Stundaio all'inizio della curva prosegue in vantaggio Anzedonia davanti a Younger Iars, pure Gioi, Premois, Rebaudengo, Oksana d'Arcadia e Stundaio poco prima dell'ingresso in addirittura in vantaggio Anzedonia davanti a Younger Iars, pure Gioi ed Premois. I cavalli entrano in addirittura con Anzedonia in vantaggio davanti a Younger Iars, pure Gioi, Rebaudengo e Stundaio a centropista a Premois e Oksana d'Arcadia. In vantaggio Anzedonia attaccata all'esterno da Stundaio a centropista, passa Stundaio a centropista davanti a Younger Iars, a Premois ed Anzedonia. si stacca Stundaio davanti a Anzedonia a Premois ed Oksana d'Arcadia. Era la corsa di Stundaio, ci abbiamo girato molto intorno, ma insomma il cavallo che si declassava era lui, era il favorito e quindi tutti diciamo contenti, perlomeno insomma quelli che lo hanno appoggiato a 2,66 è il numero 6 e poi Bagar per il posto d'onore tra a Premois e a Anzedonia. Mario e chi l'ha giocato a 4,20 ha fatto un bel affare eh? Eh sì. È certo, è certo. 2,66 la cosa del dico. È dal solo della tua voce.